Ancora Costa, non fa metri, va da Kostic, il tuffo di Sava Kostic, palla telecomandata di Costa, ma Kostic ragazzi, veramente con una torsione da grande attaccante, trova l'episodio che porta la sua squadra sul più 2, 4 a 2 il punteggio per home, sapore di casa, Sava Kostic, gran giocata, 23 e 20 sul cronometro. Grazie